13 associazioni ambientaliste della Versilia si uniscono in un solo coordinamento a tutela del territorio. Il primo obiettivo è fermare o modificare i punti ritenuti più rischiosi e impattanti del nuovo piano operativo che il comune di Pietrasanta si appresta ad approvare. Si sono presentate al circolo Arci di Val di Castello e riuniscono le sigle che in questi anni hanno combattuto per il taglio, per l'inceneritore, la rimozione di alberi, la tutela della versiliana, cava fornace e da ultimo la riapertura di Cava Ceragiola a Castello. Nel nuovo piano urbanistico attaccano gli ambientalisti, sono previsti 90.000 metri quadri di nuovo asfalto e cemento, sabato pomeriggio ci sarà un presidio informativo in Piazza Duomo e ogni settimana un'attività nei luoghi di interesse ambientale coinvolti. In realtà la nostra azione è duplice, da una parte c'è un'azione di piazza che è quella che stiamo facendo, dall'altra c'è l'azione amministrativa perché ogni comitato ha presentato una serie di osservazioni e di conseguenza queste osservazioni andranno in regione e negli enti preposti affinché vengano modificate o integrate quanto contenuta all'interno del piano operativo. Quanto alla riapertura di Cava Ceragiola, autorizzata dalla regione e appena inserita nel piano operativo, dopo l'assemblea pubblica di martedì scorso a solaio, alla quale non ha preso parte l'amministrazione, il comitato ha chiesto un incontro ufficiale in comune col sindaco Giovannetti. In ogni caso noi stiamo raccogliendo firme per le nostre otto osservazioni che presenteremo verso la fine di questo mese. La terra non è nostra. Immaginate se prestate una macchina e vi torna piena di buchi, graffiata, ammaccata, con delle schifezze. Come sareste contenti? Noi vorremmo mantenerla intatta.